Il nostro motto è se vuoi muovere il mondo comincia a muovere te stesso. Noi siamo un gruppo di mamme che abbiamo pensato in questa giornata di ripulire questo posto che è dedicato a Peppino Impastato. Ed è diventata praticamente una discarica a cielo aperto perché i giovani vengono qui ad ubriacarsi, a fumare, a buttare la qualsiasi cosa. Laddove i nostri figli poi devono camminarci sopra e quindi con i rischi che ne convengono. Inoltre troviamo qualsiasi cosa anche gettata all'interno del cortile della scuola ed è a quanto pericoloso. Quindi non vogliamo aspettare che qualcuno faccia per noi questa cosa o perlomeno vogliamo sensibilizzare comunque che qualcosa venga fatto perché non si può sempre aspettare che qualcuno ci risolve il problema. Ringraziamo Ecologia e Ambiente per averci fornito le attrezzature per poter pulire in questa giornata. Ringraziamo l'assessore Donatella Battaglia per essere presente e averci sostenuto anche in questa iniziativa. Speriamo che l'amministrazione ci degni un po' più di attenzione e che i giovani comincino a rispettare il luogo pubblico. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.